Siamo onorati di iniziare con l'apertura di una mostra bellissima dedicata alla grande Claudia Cardinale, la quale fra qualche ora consegnerà il premio alla carriera Tom Hanks. Le tre parole d'ordine sono qualità, varietà e internazionalità. Come le sembra il risponso del pubblico? Finora molto molto caldo, in assoluto abbiamo un 15% in più di vendita di biglietti e speriamo che anche queste attività importantissime ma parallele come le mostre abbiano lo stesso tipo di affluenza. Il festival si apre, la festa devo correggermi, si apre appunto con un omaggio a Tom Hanks a seguire il film, uno dei film più belli dell'anno che è Moonlight di Barry Jenkins. E verrà consegnato il premio alla carriera di Tom Hanks, come è stato scelto questo grande attore? Innanzitutto volevo dare un segno di novità perché generalmente si danno a persone anziane e quasi sempre registi. Io volevo una persona non anziana e un attore.